Oggigiorno come ne chi faccio un reato, chi faccio un macello. Tutti vivono così. Su dieci persone, otto vivono male. Se tu cresci in un ambiente così, ti porta, ti tira. Mi sentivo più uomo con la pistola in mano. Hai una pistola? Me l'hanno regalata. Era la pistola, la pistola desidera poco. Ho sparato contro quattro poliziotti. La gente tremava. Non c'aveva paura di nessuno. Volevo una città a me, a città di pallone. Se ti devi sparare, ti sparo senza perdere Dio. No, non mi fottevi niente. Morito bastano tre secondi, eh, con un secondo. Siamo quattro magi. Frate un panino a me e gli faccio pizza. È molto. Ho solo due fratelli. Quattro non ti trattava. Non ti potessi potessi rosso. Come il primo, il potere. I soldi che stanno male. Ma... Che uno di loro vuole essere uguale. Grazie per la visione!